Hey Woters! What's up and I'm gonna... Oh, d'annazione! Chia! Io posso filare l'intro con... Ok, quindi... Hey Woters! What's up and I'm gonna... Siamo qui per un nuovo video di entusiasmantissimo in un video che puoi... Questa volta su Vampire The Masquerade Redemption per nuove entusiasmantissime Vampire The Masquerade Avventure Quindi siamo qui e dovevamo andare a rompere il culo d'orsi Né... Niente di più, niente di meno Dovevamo andare alla Horsi International E andare a sparagnare le chiappe a quel cazzo nel lì Poi qui ci dobbiamo andare dopo Questa me la ricordo ma è dopo Non ora Prima alla Horsi E ovviamente dovremmo... Oh, sì Farebbero meglio a sbrigarsi È quasi l'ora V Già L'ora V L'ora V Ok, ti ho V con l'ora V con Slack Se non avete l'invito filate Già Niente invito, niente parti Io ho l'invito Ah, devo prendere il quadro Molti di voi probabilmente me l'hanno anche gridato Mentre stavo facendo lo scorso video gameplay Tipo Rexen Se non prendi il cazzo di quadro Non puoi andare da nessuna paella Eh, lo so, lo so Eh, purtroppo è la mia capoccia Che non funziona più bene come una volta Cioè, in realtà non ha mai funzionato bene È sempre andata per i cazzi suoi, no? Sapete Io ho una di queste che sta sempre Lo so, a pensare a qualcosa Non riesco mai a concentrarmi Ma è bene su niente No, tipo, penso a 20 cose contemporaneamente E ne faccio male tutte e 20 Quindi Purtroppo è così Eh, che dannazione Era ora che arrivaste con quel quadro Già È quasi l'ora V Già L'ora V Andiamo Non vorremmo far aspettare quelli con l'ora V Andate a cagare voi Ventro è la vostra fottutissima Ora V Ora andate a fanculo A vaffanculo Con la vostra Ora V Non so se avete compreso bene la battuta Ora V V come vaffanculo Che è una cosa molto Divertente Credo Questi stanno con Il loro Sul serio State State con Ok State con le pistole Siete di Ventro Siete di Vampiri Sapete che non servono assolutamente a un cazzo Ma state comunque con le pistole E ho un cazzo di fucile da cecchino adesso Va bene Dannazione I Ventro sono così stupidi Altezzosi Lo so non ne sopporto È più forte di me Ok Non palo su per il culo Non riesco a sopportare i Ventro Ok È una di quelle cose Che è tipo Oh ehi Ventro Che bella merda Falciali tutti Falciamoli tutti Dannazione Capito va Vai pure con potenza Dannazione Dannazione Solo io lo trovo interessante Questa piccola canzoncina Nel manga Tipo Nene Nene No in realtà fa abbastanza cagare Come musica Vi ricorda Sapete quelle canzoni Di Crash Bandicoot Dentro le fabbriche Nene 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 Ammazza questo Ye ye Eh da vede queste cose qui No Quelle dove poi Massacri tutti Dovrei Tecnicamente Capire dove diavolo mi trovo Ah lo so che me ne pentirò ma È molto più carino così Col berrettino Col fottuto berrettino Antiradiazioni Danosfe Perché indossano un cazzo di berrettino Antiradiazioni Non lo so Oh cazzo slatta Ok Per i vecchi tempi Dannazione No slatta Gol da guerra Che diavolo sto dicendo Vabbè Io meno sempre che roba smisce Sempre quella roba del Cavolo di In serio Sono tutti Oh Beh giustamente ci sono anche i Tannatissimi smisce Perché Perché Ragazzi Abbattiamo il gol da guerra Fini Fetto questo Vediamo di Prendere un altro po' di roba Che Uh Bello Mitra Che bello Inutile Inutile Potevamo fare di meglio Vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Ma come Cazzo ma è corta La horse international Già stiamo a livello 2 Wow Possono Che sono diventato Fottutamente Troppo forte O Questi sono veramente Dei pipponi Allucinante In realtà Calcolando che cazzo Sono i ventri Appunto sul Siamo Pipponi Allucinante Un cazzo Di lancia Ok Abbiamo un cazzo Di lanciarazzi Qui Va bene così Wow Dai Su Dai Dai Non è così Anche un altro Anche un inceneritore Ok Anche Cazzo Sto collezionando Fin troppa roba Prima o poi Dovrò andarla a vendere Dai Ma stai da Di trasformarmi In lupi Tanto è inutile Dannazione Sono Sono quelle cose Inutili Che fate voi Maledettissimo I ventri In un modo Senza senso Non Non so neanche Il perché Un altro tomo Dai Dai che Dai che voglio Questo tomo Dai che voglio Questo tomo Dai So Yes Che tomo è Tomo di Dominazione Non è Detto di averlo Sì Ce l'ho Andiamo a Lily Tanto sto dando Tutto Ce l'ho anche lei Ce l'ho anche lei Willem Hai Hai già dominazione Bene E quindi Sammy Prendilo tu Tanto a sto punto Manchi solo te qua dentro Cazzo Cazzo ce l'avevano tutti Dominazione Tranne Tranne Samuel Samuel Cazzarola Vergogna di un attimino Lancia Pioli Vanello Argento Dai su Forza Dai 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 Su 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 Dai Con quelle Potoseghe Facciamo pezzi Questo lurido Bastardo Yeeey No 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 Chris 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 Per un momento Mi sono sinceramente Cagato Oh cazzo Ha degli occhi sulla schiena Non me ne ero mai accorto Cazzo Quanto fate Fottutamente schifo Voi Goal da guerra Aaaaaa Divento Solo questo Sandu fare Mandare in soggezione La gente Perché sono delle Maledette Merde Ecco perché Oh Lo vedi che riusciamo A portare Più o meno Tutta questa Fottutissima roba Senza impazzire Cari miei ragazzi Basta solo dare Una fottutissima Sistemata Tutta questa Maledettissima roba E ora che l'abbiamo data Dove diavolo Dovrei andare Credo Di qua Non Non ne ho la più palida No 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 Da qua ci arrivo Però questa Non l'ho aperta Mannaggia A me stesso Oh Allora Proviamo ad andare Qui sopra E vediamo che Non succede Niente Bene Bene Oh giusto C'è una cazzo Di porta aperta Qui Ma quanto Sono rincoglionito Dai Muovi quel culo Ci sono dei Ben Mi sembra Ma io da qui Ragazzi Ma che cazzo Di strada Sto facendo Io mi sto rincoglionendo Sul serio Ma neanche poco Dai Almeno andare a finire Questa Via Allora Ok Qui ho preso questo Quindi probabilmente Devo girare Di qua Dove ci sono Dei dannatissimi Slacta Inutili Eh sul serio Ma qualcuno Ancora Perché gli sviluppatori Ci hanno messo Degli slacta Sinceramente Non ha Non ha senso Mio Dio Santissimo Cosa sta succedendo Qui Non ne ho la più Pallida idea Sto crepando In modi Uno più diverso Dall'altro Cazzo Wow Chris sarà tipo Molto Morto Tre volte Fottuti Gold Da guerra Ah Fortuna che avevo preso Tutte quelle Dannatissime Cose Per Nascondermi Dannazione Damo dai Regà Ce l'abbiamo fatta Yey Cazzarola Fammi salvare Vai Dannazione Guardate Che roba Allora Dai Dai Quanto meno Per questo giro Voglio almeno Finire il secondo Oh Ok Abbiamo finito C'era giusto Questo mega pezzo Maledettamente Da rotti in culo E credo che Siamo arrivati Alla fine E ovviamente La vedremo Nel prossimo Ah no 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 Marca l'ultimo pezzo La 3 E poi tocca andare Alla 4 Ovviamente Mi sembrava strano In ogni caso Time for this Video in play Ci vediamo al prossimo Video in play Sempre con vosso Rax Ciao a tutti bro Oh yeah Yeah